Ma non capisco che cosa ci sia da nascondere e perché la città non debba conoscere il contratto che è intervenuto su Finalpia. Si dichiara favorevole il candidato sindaco Simone Beretta la soluzione trovata dal CDA della Fondazione Opera Pia Climatica Cremasca con la società IMA che prevede un contratto di affitto della durata di sei anni rinnovabile per altre sei per la gestione dell'hotel del golfo ex colonia Finalpia in quanto da sempre contrario alla vendita del patrimonio. Quello che però non accetta, nonostante la richiesta sia pervenuta al CDA, è che il contratto firmato con le dovute garanzie che mettono in sicurezza l'immobile e consentono di ripianare il debito maturato negli anni non si possa visionare. Il patrimonio è vero che è della fondazione ma è sostanzialmente della fondazione ma è ancora più sostanzialmente un patrimonio della città e del territorio e quindi abbiamo diritto a conoscere quel contratto. Questo tipo di contratto a me non dispiace perché è un affitto di tipo commerciale di sei anni più sei quello che non riesco a capire è la ragione ultima per la quale questo contratto non viene mandato ai consiglieri comunali e neppure ai commissari della Commissione Garanzia. Vorrei ricordare a chi di dovere che in tempi non sospetti il Comune di Crema fece dei passi istituzionali con delibere in consiglio comunale per dare dei soldi a questo ente quindi abbiamo anche titolo di valutare come quei soldi evidentemente attraverso il contratto sono sostanzialmente tutelati. Prima della firma del nuovo contratto che ha evitato il fallimento con la messa all'asta dell'immobile dell'hotel del Golfo è stato sciolto il contratto firmato l'anno scorso dal precedente CDA che poi si è dimesso. Un accordo preliminare che tuttavia il CDA della fondazione non ritiene utile mostrare a chi ne ha fatto richiesta. Però vogliamo conoscere il contratto e questo ci consente certamente di capire cosa è successo prima e vorremmo capire anche perché c'è stata prima del nuovo contratto la risoluzione del precedente.